Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News edizione Milano. Vediamo subito i titoli di oggi. Caduti gli ultimi dubbi, Patrizia Coluzzi, la mamma della bimba di due anni, trovata morta in una casa di via Mamelia Cisliana, è stata fermata e portata a San Vittore. Una data destinata a rimanere nella nostra storia recente, il 9 marzo di un anno fa, la loro premier Conte annunciava la chiusura della nazione, il nostro racconto nelle immagini di Milano. Ed un anno dalle prime chiusure, i ristoratori lombardi sono scesi in piazza davanti a Palazzo Lombardia, siamo stremati dall'emergenza e gli aiuti messi in campo non bastano. Cristian Lossa ha confessato l'omicidio della transessuale escort brasiliana Alves Rabacchi, trovata uccisa con un 85 coltellato, nel suo appartamento di via Plana. Si sta coprendo la facciata della Torre Velasca di Milano, l'edificio verrà ristorato, i lavori sono scattati nei giorni scorsi e gli operai stanno montando le impalcature attorno al grattacielo. In apertura ancora è la caso dell'omicidio di Cisdliano, c'è una prima svolta nelle indagini, è stata fermata la madre 41enne della bimba di due anni e portata a San Vittore. Morta soffocata è quanto emerge dalle prime risultanze dell'autopsia effettuata oggi all'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia sul corpo della piccola Edith, la bimba di due anni trovata senza vita ieri mattina in un appartamento di Cisdliano in via Mameli 7, morte per la quale risulta ora ufficialmente indagata per omicidio volontario la madre della bambina, Patrizia Coluzzi, 41 anni, che è stata sottoposta a fermo su ordine della procura di Pavia. L'indagine è condotta dal PM Roberto Valli insieme al procuratore Mario Venditti. A condurre l'autopsia invece è stato questa mattina il medico legale Marco Ballardini. L'ipotesi del soffocamento che sembra essere avvalorata dall'autopsia era stata presa in considerazione dagli inquirenti già nelle prime ore dopo il ritrovamento del corpo. È stata la stessa Patrizia Coluzzi nella notte tra domenica e lunedì a chiamare al telefono il marito con il quale aveva in corso una delicata separazione per avvisarlo che la figlia non c'è più. Questo dopo aver lasciato sul letto della bambina dei biglietti con scritto l'ultimo viaggio con te, piccolo amore indifeso e scusa piccola ma non potevo permettere che restassi nelle sue mani da sola. La donna si è poi prodotta delle ferite da taglio. Piantonata già da ieri nel reparto di psichiatria dell'ospedale Fornaroli di Magenta è stata poi destinata al reparto di psichiatria del carcere di San Vittore a Milano dove attualmente si trova. L'udienza di convalida del fermo si svolgerà davanti a un giudice del Tribunale di Milano. Nel recente passato c'erano state delle avvisaglie con dei problemi evidenziati sia dalla madre della donna 41enne fermata ma anche all'interno della coppia. Adesso la classica domanda si poteva evitare quest'ennesimo omicidio. Tua figlia non esiste più è la frase usata da Patrizia Coluzzi, la madre della piccola Edith per annunciare al marito con cui si stava separando che la figlia era morta. Sullo specchio della testiera del letto ha lasciato una decina di foglietti. L'ultimo viaggio con te, piccolo amore indifeso, scusa piccola ma non potevo permettere che restassi nelle sue mani da sola. Frasi che non hanno lasciato più dubbi agli investigatori dei carabinieri ma che raccontano anche un certo grado di instabilità psicologica della donna che sarebbe iniziata dopo la nascita di Edith, una situazione confermata dai conoscenti e dal fatto che i servizi sociali del comune fossero a conoscenza della situazione familiare della donna, con due gemelli avuti in un primo matrimonio e con una separazione in atto con il padre della piccola Edith, con cui negli ultimi tempi il rapporto si era fatto molto tormentato. Era fatto di denunce e controdenunce alla procura di Pavia che in due casi aveva archiviato le accuse di violenze e abusi che la donna diceva di aver subito, mentre in un altro caso la denunce è ancora pendente. Motivo per cui Patrizia Coluzzi, via Facebook, si era scagliata anche contro la procura di Pavia, colpevole a suo dire di aver ridicolizzato la sua storia. In passato avrebbe denunciato per stalking anche il precedente marito e sempre in concomitanza con la fine della relazione, mentre nel caso di Edith appare anche la questione dell'affidamento presente e futuro della figlia. Questo è il quadro che ha fatto dire a Cisliano che forse la donna è stata lasciata troppo sola a combattere i suoi disagi. Il parroco del paese, Mauro Loi, chiede a tutto il paese preghiera e silenzio. Ancora una notizia di cronaca, una ragazzina di 14 anni è ricoverata all'ospedale Niguarda dopo essersi buttata dal balcone domenica sera, una bravata per sfuggire al divieto dei genitori che le avevano impedito di uscire di casa. In seguito alla lite avuta con gli stessi, la ragazzina si è chiusa in camera e ha architettato il piano per fuggire senza farsi scoprire. Ha messo dei cuscini sotto la coperta per simulare la sua presenza, poi legando le lenzuola alla ringhiera del balcone ha tentato di raggiungere il cortile condominiale per poi uscire e raggiungere gli amici. Qualcosa però è andato storto mentre si calava giù dal terrazzino la 14enne e forse perché le lenzuole non hanno letta è precipitata, sbattendo violentemente sull'asfalto. È stata trasportata in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Non è in pericolo di vita, ma rischia gravi danni permanenti. Voltiamo pagina, 9 marzo 2020, l'allora Premier Conte annunciava il lockdown nazionale, una data storica e un periodo, un anno, che vogliamo rivivere in queste immagini. 9 marzo 2020, l'ex Premier Conte annunciava che l'Italia sarebbe entrata in lockdown per contenere la diffusione del Covid nel nostro paese. Una data storica che difficilmente dimenticheremo. Dalle immagini di quel marzo 2020 notiamo una piazza d'uomo schernita e avvolta dal silenzio. Poche mascherine ancora intorno perché nessuno poteva mai immaginare quello che da lì a poco sarebbe successo in Lombardia. Un anno dopo, 9 marzo 2021, la città è più sveglia, più aperta, ma ancora spaventata. Con la zona arancione rafforzata in Lombardia, il centro di Milano è poco popolato, è tra i cittadini, lo stato d'animo è lo stesso per tutti. Stanchezza. È passato un anno dall'anno scorso, da quando è iniziato il lockdown. Cosa si vive oggi, cosa prova lei oggi dopo un anno? È successo, c'è stato un cambiamento oppure vede che la situazione è sempre la stessa? Più o meno è sempre la stessa. Forse peggiora anche. Speriamo di veniscene fuori tutto quest'anno. Siamo molto stanchi e secondo me non è cambiato nulla, anzi, a me mi sembra tutto peggiorato. A queste condizioni non si può andare più avanti, non si può andare più avanti assolutamente. O si muovono a fare i vaccini o andiamo a finire male. Beh, qualcosa sicuramente è cambiato, però io fortunatamente il primo periodo non ho vissuto in Lombardia, non era Milano e direi che la situazione invene in campagna era molto più leggera, però effettivamente qualcosa è cambiato sicuramente, c'è più libertà di movimento, però psicologicamente è abbastanza tosto. E' stanca? Sì, molto, molto stanca, però mi adatto, cerco di conviverci. Mi manca tutto, mi mancano le mie amiche che non posso andare in giro, mi manca il teatro, mi manca il cinema, mi mancano le passeggiate, le uscite fuori, insomma mi manca tutto. E non mancano nemmeno le polemiche a scendere in piazza davanti a Palazzo Lombardia, ancora una volta la categoria dei ristoratori, perché? Perché le misure messe in campo fino ad oggi per contenere le emergenze economiche non bastano. Per te non voglio fallire! Io per te non voglio fallire! Ad un anno esatto dalle prime chiusure, i ristoratori lombardi sono ancora una volta scesi in piazza davanti a Palazzo della Regione per protestare contro la situazione drammatica causata dalle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 che ha messo in ginocchio il settore. E' più di un anno ormai che siamo in questa condizione, poi noi che abbiamo un bar serale praticamente non abbiamo mai aperto, noi apriamo le 18, quindi mai aperti, gli affitti arrivano, le bollette della luce arrivano, ma con che cosa le paghiamo? Per noi è stato un danno enorme, enorme e non ce la facciamo più a sostenerlo, perché è un anno che è così, quindi non so quanto tempo avremo ancora per poter vivere in questa maniera, perché comunque abbiamo le spese, abbiamo gli affitti, gli affitti non si fermano. Siamo stremati, dicono i ristoratori, che considerano le misure economiche adottate finora inadeguate, tanto che se non ci sarà un cambio di passo, molte attività saranno costrette a chiudere definitivamente. Passato un anno e per voi i ristoratori non ci sono ancora certezze? No, certezze ci sono, sono quelle di rischiare un fallimento, perché tra qualche settimana ripartiranno i mutui, ripartiranno tutte quelle cartelle esattoriali, quegli F24 che sono stati accantonati nei mesi scorsi e che naturalmente la vicinanza del 16 di marzo con le prime scadenze ci farà capire che probabilmente molti di noi dovranno ancora chiudere ancora una volta per una mancanza di liquidità, per una mancanza di visione da parte di chi ci amministra. Le richieste presentate oggi in piazza e dirette al nuovo governo e al Presidente di Regione Lombardia, Tiglio Fontana, sono molteplici, dalla riforma della legge Bersani affinché non ci siano nuove aperture nel settore, alla revisione da parte dei sindaci delle tassazioni locali fino all'intensificazione dei controlli contro il fenomeno dell'abusivismo. Quello che chiediamo è a riaprire in sicurezza e avere degli aiuti veri per noi e per i nostri ragazzi che sono ancora in cassa integrazione. Vediamo adesso i dati sull'andamento di contagi e vaccini in Lombardia, partiamo proprio dai contagi, 47.619 nuovi tamponi, 4.084 positivi, ciò significa l'8,5%, come vedete continuano ad aumentare i decessi, altri 63, ma anche i recovery, più 14 in terapia intensiva, più 216 nei reparti ordinari. La provincia più colpita, Milano, 1.056 casi, 505 a Milano città. Vediamo anche le somministrazioni, come vedete, dei vaccini, le somministrazioni in Lombardia hanno superato quota 72,7% tra somministrazioni e dosi consegnate e il dato nazionale leggermente più alto, 78,6%. A proposito della situazione in questo caso in Lombardia, c'è una notizia dell'ultima ora con un intervento del Presidente Fontana, a margine della presentazione del treno sanitario di Trenitalia e Areo in stazione centrale, parlando di possibili nuove restrizioni, affermato è chiaro che i numeri non stanno migliorando, ne stiamo cercando di contenere con tutte le misure che abbiamo assunto, in ogni caso non mi sembra che possano esserci grossissimi cambiamenti, nel senso che l'arancione rafforzato che abbiamo preso è già una misura importante per i fini del contenimento. A proposito di nuovi chiusuri, bisogna leggerle con attenzione anche sui dati, è chiaro che bisognerà anche ascoltare le decisioni che verranno prese dal Governo con il nuovo DPCM. E sempre in Regione è polemica, a distanza, nuovo botta e risposta proprio sulla gestione delle vaccinazioni tra il Partito Democratico e la Lega. Bisogna correre e se qualcuno ha sbagliato, paga. Anche nella macchina tecnica di Regione Lombardia evidentemente c'è qualcuno che non è all'altezza del compito richiesto. Le parole di Matteo Salvini sulle difficoltà registrate in Lombardia nelle chiamate per il piano vaccinale suonano come una presa di coscienza del fatto che all'ombra del pirellone a trazione leghista qualcosa non stia funzionando come dovrebbe. Un riferimento dunque a figure tecniche all'interno della macchina regionale, ma per il Partito Democratico Lombardo le responsabilità sono da ricercare più in alto. La piattaforma informatica della Regione Lombardia per la prenotazione dei vaccini degli over 80 continua a non funzionare. Oggi lo ha riconosciuto anche Matteo Salvini, dando però la colpa ai tecnici. Ma questo è solo l'ultimo di una serie di errori scoperchiati dalla pandemia per colpa di una gestione approssimativa di programmi più aderenti alla propaganda leghista che alla buona amministrazione. Quindi sì Salvini, ti confermiamo che la Lombardia non è all'altezza, ma non per colpa della sfortuna, ma perché è governata da chi non è all'altezza. In tutti questi mesi Fontana e la sua giunta hanno peccato di mala gestione di tracotanza, non assumendosi mai la responsabilità delle scelte e degli errori. La controreplica arriva in una nota di Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega in Lombardia. La nostra Regione, fa notare Cecchetti, ha già vaccinato oltre 830.000 persone ed è regolarmente partita la campagna vaccinale per insegnanti e personale scolastico, con ben 138.000 adesioni. Su eventuali disguidi tecnici, Cecchetti tira dritto, ci sono sempre replica ricordando che si sta parlando di una campagna vaccinale di massa. Stiamo tutti lavorando giorno e notte, conclude rivolgendo infine al PD, un appello alla comune responsabilità perché si remi tutti nella stessa direzione. Polemiche, seppur dai toni diversi, si sono registrate nei giorni scorsi a dar l'uno contro la didattica a distanza. In strada, numerosissimi genitori che hanno firmato anche una petizione. Vediamo le immagini. Erano quasi 200 i genitori che domenica pomeriggio hanno manifestato contro l'obbligo della didattica a distanza al Parco Toti di Arluno, di fronte alle scuole medie del paese. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Genitori e che ha visto la partecipazione anche dei dirigenti scolastici di tutte le scuole, è stata preceduta da una raccolta di 754 firme, consegnate al sindaco Moreno a Golli perché si faccia da intermediario con Regione Lombardia, proprio per la riapertura delle scuole in presenza. Arluno, infatti, come confermato dallo stesso sindaco durante la protesta, ha una trentina di positivi su 12.000 abitanti e non aveva nessuna classe in quarantena nel momento del passaggio alla zona arancione rafforzata. Se c'è bisogno di chiudere, chiudiamo tutto, non la scuola per prima. E quindi un grazie a tutti voi per la vostra presenza perché per me è molto molto significativa. Quindi grazie a tutti. Io vivo la condizione, qualcuno diceva trina, di essere genitore, sindaco e insegnante. Capite come questa cosa la vivo davvero male, la vivo in un modo triplice di sofferenza. La cosa che ci piace poco è proprio questa lamentela continua del cambiare le cose dalla sera alla mattina e poi quando si tratta di fare un'ordinanza, di prendere le decisioni, succede la stessa cosa. Noi abbiamo 180 bambini, diciamo iscritti e l'altro giorno erano presenti 170 bambini. Quindi il problema dal nostro punto di vista non è certamente la scuola perché è uno dei posti più controllati che noi abbiamo. Sicuramente c'è una situazione sanitaria che non bisogna trascurare, però c'è anche un ascolto e una centralità al bambino dove il bambino viene un po' messo in secondo piano perché il chiedere a una scuola dell'infanzia una dad non in presenza si perde tutto quello che sono gli obiettivi, la finalità della scuola dell'infanzia. La nostra presenza qui sia il segno, una testimonianza del fatto che voi, noi, la scuola, tutti fino ad oggi abbiamo lavorato per cercare di mandare a scuola i nostri ragazzi in maniera sicura. vorremmo poterlo continuare a fare e voi vorreste che i vostri figli venissero ancora a scuola a essere educati e a imparare. Grazie. Una polemica e una problematica, quella della didattica a distanza che riguarda da vicino anche la città di Milano. L'abbiamo parlato con Paolo Limonta che riveste il duplice incarico di amministratore, assessore del comune di Milano e anche di insegnante. Con l'ultimo DPCM si sono chiusi i portoni di tantissime scuole, misura che ha creato non pochi problemi a molti genitori costretti a tornare a gestire la didattica a distanza dei figli. Il tema ha generato fin da subito numerose polemiche, tanto tra le famiglie quanto sul terreno della politica. Noi ne abbiamo parlato con l'assessore comunale all'edilizia scolastica, nonché insegnante delle elementari, Paolo Limonta. La scuola è il cuore pulsante dei quartieri e delle città. Se quel cuore batte, il cuore della città continua a battere. Se quel cuore batte di meno perché le scuole vengono chiuse, i bambini e i ragazzi rimangono a casa, eccetera, allora ci sono dei grossi problemi. Ho sempre considerato le scuole dei luoghi sicuri dove l'eventuale contagiosità era immediatamente tracciabile e quindi penso che sia stato un errore chiudere le scuole e mi batterò fino alla fine perché le scuole vengano riaperte il prima possibile. Fino a quando lo spettro della zona rossa resterà tale, la decisione passerà anche attraverso le stanze della Regione. Io credo che la Regione Lombardia debba ammettere i suoi errori e debba ritornare velocemente sul terreno dell'espansione della sanità territoriale perché quello è l'elemento prioritario che ci può consentire un tracciamento immediato e ci può consentire quindi anche interventi immediati rispetto alla gestione della pandemia. A pagina della cronaca adesso con un caso di cui ci siamo già occupati in passato, Cristian Losso, il bancario, ha confessato l'omicidio della trans escort brasiliana Alves Rabacchi uccisa con 85 coltellate nel suo appartamento lo scorso 20 di luglio. Vediamo. Mi minacciava, continuava a chiedermi soldi e mi diceva che aveva foto e filmati su di me. L'ho fatto di sicuro, sono stato io, ma non ricordo tutte quelle coltellate, ricordo tanto sangue addosso. Così Cristian Losso, dipendente bancario di 43 anni, ha confessato martedì davanti alla corte d'assise di aver ucciso con 80 coltellate il 20 luglio del 2020 nel capologo Lombardo in Via Plana e Manuel Alves Rabacchi, detta Manuela, transessuale da escort brasiliana che lui frequentava da due o tre anni. Il bancario ha raccontato che nell'ultimo periodo da lei andava solo per consumare cocaina. In quei momenti cercava solo la cocaina là e lei da settembre 2019 aveva iniziato a chiedermi sempre più soldi. Quando riusciva a pagare, pagavo, ha dichiarato l'uomo. Losso è accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalle sevizie. Ad incastrare il 43enne, fermato quattro giorni dopo il delitto, erano state le telecamere di sicurezza della zona che lo avevano ripreso il giorno in cui è stato scoperto il cadavere di Rabacchi. In base ai filmati entrò due volte a distanza di poco tempo nel palazzo dove abitava la vittima. La difesa ha chiesto una perizia psichiatrica e la Corte dovrebbe decidere il 22 marzo. C'è una svolta anche nel caso del ragazzo aggredito lunedì scorso in strada a Milano, fermato uno dei due aggressori. Lo hanno colto di sorpresa colpendolo con violenza alle spalle per poi sottrargli il portafoglio. È successo lunedì pomeriggio a Milano in via Riva di Trento, quando un ragazzo di 25 anni del Bangladesh è stato aggredito e rapinato da due uomini. Sono le 16.30 di lunedì 8 marzo, i due malviventi si avvicinano da dietro al 26enne. Uno, secondo il racconto dei poliziotti, afferra il giovane per la gola, l'altro lo colpisce con calci e pugni e una volta immobilizzato gli sottraggono il portafoglio, dandosi poi velocemente alla fuga. A dare l'allarme, la stessa vittima che si è messa ad urlare, attirando subito l'attenzione di una volante della polizia che si è messa a rincorrere gli aggressori. Dopo un breve inseguimento per le vie limitrofe, gli agenti riescono a bloccare uno dei due rapinatori. L'uomo, un marocchino di 20 anni, con numerosi precedenti penali, è stato arrestato ed ora si trova in custodia nel carcere di San Vittore. Gli agenti hanno anche recuperato il portafoglio del 26enne con all'interno i documenti, ma non i soldi, circa 100 euro, che probabilmente deve essersi portato via il complice che è riuscito a scappare. La polemica nel quartiere Isola, in questo caso non c'entra l'emergenza sanitaria, ma l'introduzione della ZTL a partire dal prossimo anno. La decisione è arrivata nel corso dell'ultima riunione di giunta. Da 2022, su tutto il quartiere Isola di Milano, sarà attivata una zona a traffico limitato che consentirà il transito di auto solo ai residenti nelle ore serali e notturne. La ZTL, annunciata dall'assessore alla mobilità Marco Granelli, sarà attiva infatti dalle 20 alle 6 del mattino, tutti i giorni della settimana. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di migliorare la vivibilità del quartiere, di tutelare la sosta per i residenti e di evitare criticità in termini di sicurezza dovute all'intenso traffico. Da residente in zona penso che sia un provvedimento valido e finalmente qualcuno che pensa anche ai residenti, perché con questa situazione di movida, continui parcheggi abusivi, la gente che ormai parcheggia anche dentro i condomini, penso che sia un'azione decisiva. Sicuramente a me fa comodo non avere tante macchine in più per poter almeno parcheggiare. È naturale che poi, per il discorso, venire a trovare qualcuno non può venire dentro. Staremo a vedere gli effetti poi. Decisamente contrario è il settore del commercio che in queste vie vive soprattutto grazie alla vivacità notturna. Della proposta di ZTL al quartiere Isola Milano l'abbiamo appreso attraverso un'agenzia di stampa. Non è dal nostro punto di vista il metodo corretto. C'è un distratto urbano del commercio che andrebbe coinvolto, c'è un confronto che andrebbe fatto con l'organizzazione nostra e poi c'è una cosiddetta anomalia. Confcommercio ha richiesto un'isola pedonale in Ascanio Sforza ed è tre anni che la stiamo aspettando pur essendoci l'atto deliberativo. Invece su una ZTL all'isola la prendiamo come atto già fatto attraverso un'agenzia di stampa. Non riteniamo che questo sia il metodo corretto. Una parte dell'area interessata dalla futura ZTL ricadrà all'interno del Municipio 2 che tramite il suo presidente Samuele Piscina ha mostrato tutta la sua contrarietà al progetto. Granelli come al solito non ci ha assolutamente consultati. È partito con il comunicato stampa facendoci arrivare la notizia a mezzo stampa e non direttamente come sarebbe opportuno con i canali istituzionali. Nel frattempo i cittadini e gli esercenti commerciali che proprio nel 2022 dovranno riprendere e ci sarà la ripresa economica si trovano in netta difficoltà perché le macchine ovviamente non saranno più consentite all'interno della ZTL. Le persone avranno più difficoltà ad arrivare all'interno di un quartiere prettamente commerciale come isola. Stiamo a Milano perché si sta coprendo con ponteggi e impalcature la facciata della Torre Velasca uno dei simboli della città. Nei giorni scorsi sono partiti i lavori di riqualificazione. Tra gli elementi predominanti dello skyline milanese, emblema dell'architettura italiana del dopoguerra la Torre Velasca spicca oggi nel cielo del capoluogo meneghino avvolta da un'impalcatura di ferro e acciaio. Nei giorni scorsi nell'edificio simbolo della città sono scattati i lavori di ristrutturazione e data la grandezza dell'edificio i ponteggi dall'esterno sembrano un enorme esoscheletro di ferro che ricopre i 26 piani della torre. A gennaio la Torre Velasca era passata di proprietà dal gruppo Unipol alla società immobiliare americana Heinz che aveva subito annunciato i lavori di ammodernamento dell'edificio che dovrebbero terminare entro la metà del 2022. Oltre che alla facciata la torre verrà al suo interno completamente ristrutturata e trasformata in un complesso di lusso con una destinazione sia commerciale che residenziale dove le parole d'ordine saranno efficientamento energetico e sostenibilità. Anche Piazza Velasca sarà protagonista della riqualificazione con l'obiettivo di rendere lo spazio più vivibile per tutti i cittadini e farne un punto di aggregazione al centro del progetto Arei Verdi e Pedonalizzazione. Costruita nel 1957 per la Torre Velasca è il quarto passaggio di proprietà. Nel 2002 era stata ceduta da Allianz alla fondiaria SAI degli Igresti poi passata ad Unipol e ora nelle mani degli americani di Heinz. L'edificio è uno dei più celibri simboli architettonici della città poco distante dal Duomo ha un'altezza di 106 metri con 26 piani all'interno ospita oltre 20.000 metri quadrati di uffici, residenze e negozi. Ci spostiamo alle porte di Milano adesso per un progetto dedicato ai pendolari della salute. Sentiamo di cosa si tratta. Una struttura di quattro piani alle porte di Milano per offrire accoglienza e calore familiare alle migliaia di persone che ogni anno si mettono in viaggio verso il capologo Lombardo per sottoporsi a cure mediche, specialistiche e delicati interventi chirurgici. E' il nuovo ambizioso progetto dell'organizzazione di volontariato Casa Amica Onlus che da 35 anni accoglie e assiste i pendolari della salute ovvero i malati costretti a spostarsi in città diverse dalla propria per ragioni sanitarie e i loro familiari. Per sostenere l'iniziativa è stata lanciata la campagna SMS solidale Casa Amica Onlus ancora più accoglienza. Covid purtroppo non ha affermato le altre malattie e non ha affermato nemmeno l'insorgenza di nuove malattie e a questi nuovi pazienti che ogni anno ahimè ci sono nel nostro paese si aggiungeranno coloro che hanno rimandato i propri controlli nell'arco del 2020 e allora Casa Amica ha scelto di dar vita alla sua quinta casa di accoglienza a Milano nascerà a Segrate quindi alle porte di Milano sarà una casa quindi che accoglierà ancora esattamente come quelle già attive a Milano pazienti dell'Istituto Nazionale dei Tumori, pazienti dell'Istituto Neurologico Carlo Besta ma potrà ospitare anche tutti i pazienti che avranno la necessità di curarsi all'ospedale San Raffaele. È partita la nostra campagna dell'SMS solidale ancora nuova accoglienza, è una campagna che sarà attiva fino al 31 di marzo perché abbiamo bisogno di aiuto chiediamo un gesto semplicissimo un SMS o una telefonata da rete fissa al 45594 per donare anche solo 2 Euro sono sufficienti quindi se lo faremo in tanti presto potremo cominciare i lavori e presto potremo concludere i lavori e finalmente la nuova Casa Amica potrà vedere la sua vita, la sua luce e potremo continuare ad accogliere tante persone. È tutto con questa notizia noi ritorniamo dopo la pubblicità con l'edizione Pavia. Grazie a tutti